Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Oggi facciamo un book tag, il pizza book tag. L'ho trovato per caso su internet e mi è piaciuto subito il titolo perché io sono una super fan della pizza e quindi mi è sembrata una buona occasione per parlare di libri ma collegati a un'altra cosa che potrei mangiare praticamente tutti i giorni potrei leggere mangiando pizza praticamente tutti i giorni Prima di cominciare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirò un mio nuovo video e se non lo fate già seguitemi anche su Instagram, io sono Martina Tazza Cominciamo! Pizza Margherita, un classico intramontabile Non sono una super lettrice di classici ma i pochi che ho letto poi mi sono davvero rimasti nel cuore In questo caso vi propongo Notre Dame de Paris che è probabilmente il classico che più ho amato il più bello che abbia mai letto in questa edizione mangiata addirittura dal mio cane da un cane che avevo tanti anni fa ma che io amo Mi è bastato sfogliare qualche pagina per ritrovarmi proprio all'interno della storia È un classico meraviglioso per chi conosce il film d'animazione Disney Qui troverà tutte altre atmosfere, tutti altri personaggi quindi secondo me è anche un classico da scoprire e quindi perfetto veramente per tutti Se qualcuno di voi non l'ha ancora letto io ve lo straconsiglio Pizza Mimosa, un libro scritto da una donna Per rispondere a questa domanda mi sono accorta che moltissimi dei libri che ho nella mia libreria sono stati scritti da autrici femmine quindi da donne e la cosa mi rende anche molto felice Per rispondere però nello specifico ho voluto prendere il libro scritto da quella che ormai è diventata la mia autrice preferita Valérie Perren Io vi mostro tre che è la sua ultima pubblicazione ma lei è famosa per aver scritto Cambiare l'acqua e i fiori un libro che l'ho detto tante volte mi ha letteralmente cambiato la vita ha scritto anche il quaderno dell'amore perduto insomma qualsiasi libro pescato di questa autrice andate sul sicuro è una di quelle donne che sa scrivere romanzi in cui ci sentiamo talmente coinvolti che è impossibile non emozionarsi non commuoversi e non pensare alle vicende ai personaggi a lungo nel tempo anche diversi giorni dopo aver finito il libro nel caso di Cambiare l'acqua e i fiori io ci penso ancora l'ho letto quasi tre anni fa quindi è veramente un'autrice che secondo me merita tutto il successo che ha avuto anche il libro tre che è la storia di tre amici mi ha conquistata non mi dilungo perché i libri di cui voglio parlare sono tanti ma in realtà affidatevi semplicemente nel mio consiglio è fantastica pizza bianca un libro ambientato d'inverno o che ti fa pensare a quella stagione beh chiaramente non potevo non pescare uno dei libri ambientati in Svezia o comunque nel nord Europa che ho nella mia libreria quindi ho deciso di consigliarvi La principessa di ghiaccio che è il primo libro della serie di Camilla Lekberg con protagonista Erika e quello che è il suo compagno del quale non ricordo il nome perdonatemi non è scritto qui nella trama quindi vabbè comunque Erika è la protagonista principale questo appunto è il primo libro della serie mi ha conquistata completamente siamo in inverno per l'appunto quindi per rispondere alla domanda neve alta, freddo la protagonista Erika è tornata a casa dei suoi genitori questa cittadina svedese e scopre insomma un giorno scopre che una delle sue migliori amiche una amica di infanzia è stata ritrovata uccisa nella vasca da bagno quindi insomma un libro un giallo che vi terrà incollati alle pagine secondo me è scritto benissimo e quindi perfetto anche per riportarci un po' nel fresco dell'inverno Pizza Capricciosa un libro che non ti ha convinto ma che vorresti rileggere non ho nessun libro per rispondere a questa domanda semplicemente perché se un libro non mi convince non vedo nessun motivo per cui dovrei rileggerlo infatti ho cercato nella mia libreria qualche libro anche magari concluso che potrei aver voglia di rileggere no perché di solito non rileggo mai libri il tempo che ho a disposizione per leggere è limitato quindi cerco di usarlo per leggere sempre cose nuove e se un libro veramente non mi ha dato abbastanza voleva dire che non era giusto per me quindi non lo rileggerei Pizza Fritta un libro super godurioso per rispondere a questa domanda ho cercato un libro che parlasse di cibo e che comunque mi facesse venire l'acquolina in bocca e non potevo chiaramente scegliere altro se non Joan Harris che è probabilmente l'autrice più brava che io abbia mai letto diciamo nel descrivere sapori profumi odori sensazioni relative appunto al mondo della cucina chi è Joan Harris Joan Harris è l'autrice di Chocolat quindi già questo vi dovrebbe dare una panoramica delle sue abilità per quanto riguarda insomma il gusto delle ricette e però ho deciso di parlarvi di un libro un po' meno conosciuto Il giardino delle pesche e delle rose questo è il secondo volume della trilogia di Chocolat per l'appunto ed è bellissimo qui siamo sempre a Lanzekinesiutan quindi sempre nello stesso paesino nel quale è ambientato Chocolat ma questa volta c'è un nuovo problema da affrontare ovvero l'arrivo di una comunità musulmana in questo paesino che continua ad essere molto chiuso e molto bigotto inizialmente la convivenza tra i cattolici e i musulmani sembra essere pacifica ma ben presto iniziano i primi scontri e sarà proprio Vian Rocher la protagonista del libro a cercare di trovare un punto di incontro tra queste culture così diverse ma perché lo uso per rispondere alla domanda perché qui insieme agli odori i sapori di tutte le ricette estive che la protagonista prepara come ad esempio le marmellate c'è una scena in cui preparo una marmellata di albicocche se non erro che veramente mi fa venire l'acquolina in bocca anche solo se ci penso questo pentolone pieno di frutta che viene mescolato bellissimo ma si uniscono anche i sapori gli odori più speziati più orientali di questa nuova cultura che appunto si è trasferita all'anziché nei siutani quindi un insieme un incontro di sapori un incontro di culture un incontro di tradizioni culinarie che secondo me potrebbe insomma stuzzicare ognuno di voi pizza montanara un libro che parla di boschi montagne eccetera allora volevo rispondere a questa domanda dicendo twilight non so perché ma quando l'ho letta la prima cosa la prima immagine che mi è venuta in mente è il bosco che circonda oddio forks mi sembra si chiami la cittadina insomma dove è ambientato twilight però ho deciso di non nominare quello e ho scelto un altro libro che non vi mostro molto spesso ovvero l'ultima volta che l'ho vista di charlotte link questo libro è un giallo e come dice anche la frase sulla copertina una radura ai margini del bosco una breve passeggiata e niente sarà più lo stesso perché semplicemente la donna si trova appunto in questa radura ai margini di un bosco il marito si allontana pochi minuti per portare a passeggio il cane quando torna la donna è scomparsa non vi racconto altro perché secondo me i gialli vanno anche un po' vissuti però charlotte link è veramente molto brava nel raccontare questa storia e nel tenerci incollati alle pagine anche perché la storia di questa donna scomparsa fin da subito si rivela essere davvero molto particolare sì perché c'è qualcuno che viene effettivamente arrestato per il rapimento di questa donna quindi insomma un libro tutto da scoprire e un'autrice anche in questo caso tutta da scoprire in ogni caso l'ho scelto perché per l'appunto sia nella copertina che proprio diciamo il centro della vicenda è tutto ambientato in un bosco pizza marinara un libro che ti fa pensare al mare o all'estate per rispondere a questa domanda inizialmente stavo cercando dei libri che fossero ambientati vicino al mare però mi sono accorta che quei libri in realtà non mi facevano pensare all'estate perché magari le storie non erano proprio perfette per la stagione estiva magari erano un po' pesanti o ambientate nella stagione sbagliata quindi vicino al mare ma magari d'inverno quindi non mi sembravano letture che avrei portato in vacanza con me e quindi ho deciso di scegliere un libro che anche se non è ambientato al mare mi fa pensare al mare all'estate è una lettura che vi consiglierei di fare sotto l'ombrellone sto parlando di come fermare il tempo di Matt Haig o Haig il primo libro che ho letto di quest'autore ed è veramente un romanzo super indicato per la spiaggia o comunque per rilassarsi perché è una bella avventura è una storia originale scritta molto bene molto scorrevole di quelle che proprio sono perfette per rilassarci la storia è quella di un uomo che invecchia molto molto lentamente quindi si invecchia ma in realtà all'età di mettiamo 40 anni in realtà lui ne ha vissuti già qualche centinaia quindi insomma un uomo che si ritrova a vivere una vita davvero molto particolare di fatti inizialmente si potrebbe pensare che questo sia una fortuna che questo sia un dono perché vivere tanto a lungo forse lo desidereremo un po' tutti ma quando sei l'unico a farlo in realtà questa è una grande condanna perché lui piano piano ha imparato come gestire la sua vita come nascondersi come cambiare spesso luogo di abitazione per non destare sospetti ma c'è una grande enorme e anche triste regola nella sua vita non innamorarsi perché qualsiasi amore lui possa provare per una donna sa che questo è amore destinato a farlo soffrire perché lui vivrà ovviamente sempre più a lungo delle donne che ama molto più a lungo delle donne che ama quindi sa che sarà sempre costretto a perderle quindi insomma un libro bello perché passiamo attraverso diversi secoli di storia e tutto attraverso gli occhi di una persona che cerca di gestire questo dono barra maledizione io l'ho trovato incantevole quindi spero che se non l'avete letto lo potrete scegliere per le vostre vacanze pizza con ananas un libro che non ti è piaciuto per niente non mi dilungo per rispondere a questa domanda ormai lo sapete tutti oddio come si chiamava liberi come la neve mi sembra di ritanarti non mi è piaciuto per niente non lo consiglierei a nessuno e basta lettura recentissima che non mi è piaciuta altro libro che ho detestato 50 sfumature di grigio ho letto un sacco di anni fa non sono mai andata avanti nella serie non ho mai visto i film perché l'ho trovato terrificante però non siamo qui per parlare di libri brutti pizza del tuo paese un libro che racconta il tuo paese la tua città o il posto in cui vivi non ci sono libri in realtà che ho nella mia libreria ambientati nelle zone in cui vivo però potrei consigliarvi il mio libro viaggi tra sogni di carta che non ho qui con me perché ho finito le copie disponibili che avevo qui a casa ma le ho riordinate dalla mia casa editrice perché voglio comunque averle sempre a disposizione anche nel caso qualcuno poi volesse avere una copia autografata eccetera quindi per il momento non ce l'ho perché consiglio questo per rispondere alla domanda perché c'è una parte del mio paese all'interno di questa storia perché racconto di tanti aspetti di un piccolo paese che ricordano il paese dove sono cresciuta così come la mia vita in negozio quindi quando avevo la mia cartolibreria e ci sono quindi dei pezzi della mia quotidianità che ovviamente rispecchiano quello che è l'ambiente dove ho vissuto e che danno un piccolo scorcio di quella che è la vita in un paese piccolino dove tutti si conoscono con i suoi lati positivi e i suoi lati negativi Pizza Gourmet un libro dal gusto insolito da intenditori poco conosciuto in realtà non ritengo che questo libro sia da intenditori semplicemente perché io non sono un'intenditrice però ecco che sia un libro veramente molto bello e forse poco conosciuto perché ne ho sentito parlare poco è La luce sugli oceani di M.L. Stedman questo libro è un colpo al cuore però è veramente bellissimo perché secondo me affronta una tematica che mi sta molto a cuore e che è veramente molto delicata molto controversa nel senso che qui si parla di una coppia che si è trasferita a vivere in un faro perché appunto il marito se non erro è il guardiano di questo faro quindi in un'isolina completamente deserta e un giorno arriva sulla riva di questa isoletta un'imbarcazione con una bambina praticamente una nave ha avuto dei problemi insomma è affondata e la bambina è l'unica sopravvissuta questa bimba che è neonata praticamente viene accolta dalla coppia che da tempo cercava di avere figli e che non riusciva ad averne e viene cresciuta come appunto una figlia quindi diciamo che si tratta di una sorta di adozione anche se in realtà non è niente di ufficiale cosa succede che però ogni tanto la coppia torna chiaramente sulla terraferma dalle proprie famiglie eccetera e a un certo punto della storia viene fuori che in realtà una mamma biologica questa bambina ce l'aveva una mamma che non era su quell'imbarcazione che ha fondata e che per tutta la vita ha cercato questa figlia insomma pensando che fosse morta quindi diciamo che ci troviamo dentro una storia che è veramente complicata perché chi ha ragione e chi ha torto la madre biologica che rivuole sua figlia o la madre adottiva le chiamo così solo per per distinguerle insomma o la madre adottiva che ha cresciuto questa bambina le ha dato un nome e che viene riconosciuta anche dalla bambina stessa come sua madre perché in fondo e infine non c'è stato un vero abbandono quindi insomma diventa tutto molto complicato e mi piace molto la frase che è dietro la copertina che dice cosa è giusto e cosa è sbagliato fin dove può spingersi il desiderio di maternità c'è un punto in cui amore e colpa si incontrano e io lo trovo molto vero è un argomento difficile da toccare chiaramente ogni persona avrà una sua opinione ogni storia chiaramente è diversa però insomma spinge a riflettere secondo me in questo libro viene descritto tutto in maniera molto delicata che lascia proprio al lettore la possibilità di ragionare su tutto questo e capire quale sia forse la strada migliore o la strada meno dolorosa insomma un libro veramente molto toccante io ve lo straconsiglio e spero che lo recupererete perché merita una lettura bene ragazzi il video finisce qui io spero che vi sia piaciuto a me piace sempre fare il book tag e poi questa volta sono riuscita a mostrarvi tanti titoli che di solito nei miei video non si vedono quindi potete prendere nuovi spunti per le prossime letture bene io vi saluto e ci vediamo prestissimo in un altro video ciao ciao Grazie a tutti.